Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie, 3 nuove carte, per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme, il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie, 3 nuove carte, per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie, 3 nuove carte, per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori, Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura, l'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo, l'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare Assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia Ebbene si ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia 104.000 gemme Da aprire insieme a voi 3 nuove leggendarie 3 nuove carte Per un totale di 6 nuove carte Da trovare assolutamente Signori, questo video deve superare i 100.000 like Perché stiamo scrivendo la storia Di Clash Royale Ed eccoci qua signori Aguna mandata bene, ritrovati dal vostro Circe Camera 89 L'avete visto dal titolo L'avete visto dalla miniatura L'avete visto dalla intro 104.514 gemme Il chest opening più grande d'Italia